Prima conferenza stampa ufficiale qui nel ritiro di Pinzoro, nella sede dei Vigili del Fuoco per il mister della Juventus, Gigi Del Neri. Mister, è soddisfatto di questa prima settimana di lavoro? Abbiamo lavorato molto, quindi direi che nell'ottica di preparazione siamo nei tempi giusti. Quindi nel momento in cui i giocatori devono apprendere lezioni, devono caricare il fisico di un lavoro importante per poi proiettarlo in campionato. O proiettarlo magari per essere pronti per le competizioni. Non c'è un'etichetta che piacerebbe fosse data alla squadra? No, l'etichetta non ci sono. L'etichetta è dettata dal comportamento che noi avremo in campo. Il comportamento deve essere modificato, deve essere compreso con l'intensità di gioco che la Juventus vuole dare sul campo, con le qualità dei giocatori. Io voglio che la Juventus sia una squadra di calcio. Si aspetta qualcosa da qualcuno in particolare? Mi rispetto di impegno, impegno massimale, impegno dovuto all'ambiente dove lavoriamo, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto di quelli che abbiamo verso i nostri tifosi, che sono fantastici. Li ringrazio anche per gli attesamenti di affetto che hanno avuto nei miei confronti e anche nei miei confronti della mia famiglia, soprattutto. Spero che siano vicini sempre a quelle che sono problematiche che vengono così prodotte settimanalmente e anche ai propri giocatori che sono patrimoni importanti. Quindi speriamo che questo abbinamento arrivi di fatto a farci ottenere qualcosa di importante. Per quello che mi concerne gli arrivi, il mercato è sempre aperto, un mercato un po' particolare in questi ultimi anni. Direi che la società sarà molto attenta a quelle che saranno le proiezioni future, di quello che potrà eventualmente arrivare o a chi andrà via. Probabilmente può darsi che non vada via nessuno o non arrivi nessuno. Non lo so, è importante che noi abbiamo un gruppo di lavoro che stia molto attento, che sia positivo, che dimentichi il passato soprattutto, oppure ne faccia tesoro. Che si proiettino una nata per l'Euventus molto importante. Dico, quanto può somigliare a Cassano? Sono diversi, io penso che somigli più a Doni che a Cassano. Io parlo di tipologia di giocatore, per Antonio è un demico in feroce, in grande velocità, in grande spessore e può fare anche la punta. Anzi, fa la punta, per me. Diego invece mi sembra sia un giocatore che ha caratteristiche diverse, pur avendo baricentro basso, essendo forte fisicamente, ma è un gioco molto più valido quando affronta la porta frontale, quando ha spazio di lavorare come vuole. È un giocatore che ha un passo diverso e deve venire utilizzato in maniera diversa. Considerato la rosa al momento, Diego è un giocatore che avrebbe una descritta possibilità di spazio. Tutti hanno spazio. Il problema di fondo è che una strada di calcio come la Juventus deve avere una rosa di giocatori che sono titolari inamovibili, però tutti possono giocare al posto dell'altro. Quindi per spazio non so cosa intendo, intendo il titolare e dico che tutti devono conquistarsi il posto da titolare qua dentro. E quindi bisogna trovare questi spazi. Lui può avere un giocatore che può avere delle caratteristiche per noi importanti, ma torno a ripetere quello che ho detto quando sono arrivato. Per me la merito cazzia mi sembra sia la fase importante per cioccare il calcio. Non è un dovuto dare il posto a uno perché si chiama De Neri. Fin qui come l'ha apparso Diego? Molto motivato, molto positivo, volitivo. Ma è stato un aramento. Aspettava di più o di meno? No, mi aveva detto che era un ragazzo che aveva nel lavoro una qualità importante. Ho trovato Diego che pensavo, che si applica, che lavora molto e che può sicuramente ritagliarsi in uno spazio importante. in una squadra chiamata come la Juventus, ma come tanti altri, perché ho visto molto volitivi anche i ragazzi nuovi, molto volitivo Terzeghè e molto volitivo tutti i giocatori che magari in questo momento cercano spazio. Anche se per me in questo momento qui non è che le voci di mercato mi tocchino molto, insomma, perché il trattamento sui giocatori è uguale e io sto monitorando tutti, devo dire la verità. Si può chiamare monitorare, insomma. E' contento degli attaccanti che ha? Molto contento perché non è un cambiamento di una squadra di caccia, non è intanto dalla forza degli attaccanti, ma da un cambiamento, non ci può essere. E quindi cambiamento anche mentale, cambiamento di posto, cambiamento di... Però mi sembra che un allenatore, se ha le sue dipendenze inizialmente Terzeghè, Iaquinta, Amaule, Del Piero e Diego, per due posti penso che siamo abbastanza bene messi. Questa era la Juventus che si immaginava? Siamo un po' blindati, devo dire la verità. Un po' blindati, nel senso che con tanti tifosi diciamo che si può uscire poco e tante volte non riusciamo ad abbracciare tutti i tifosi che vorremmo farlo. Noi ci riacciamo da fare, però sono migliaia di tifosi e noi cerchiamo di stare vicini il più possibile perché l'affetto per noi è fondamentale ed è una parte precisa per ottenere risultati. Per quando c'è un rapporto di credibilità tra i tifosi e i propri giocatori, io penso che tutte le altre cose possono essere messe da parte. E sono convinto che sia una priorità maggiore che non quella di essere bravi tatticamente, bravi teoricamente. E penso che il gruppo, la voglia, la credibilità dell'ambiente e di quello che si fa sia fondamentale per arrivare a ottenere dei buoni risultati. Come sta Alessandro Del Piero? Manca adesso, questo problema linguine lo sta risolvendo. Penso che ci vorrà qualche giorno. Penso che riprenderà l'allenamento a tempo pieno martedì quando rientriamo. Penso che riprenderà l'allamento a tempo pieno martedì quando rientriamo.